ciao questo video è per aiutarti con un piccolo esercizio a riconnetterti con il tuo potere interiore perché tu possa sentire il tuo potere interiore è molto molto semplice quello che andremo a fare e quindi con questo ti posso aiutare proprio a sentire l'energia che si risveglia dentro di te semplicemente mettiti comodo o permettiti di stare in piedi in un momento di pace con te stesso dove nessuno possa disturbarti chiudi semplicemente gli occhi fai un bel respiro e se sei seduto appoggia i tuoi piedi sul pavimento respira e permetti all'energia della terra questo lo fai semplicemente ponendo la tua attenzione e mettendo la tua intenzione affinché questo possa accadere chiedi proprio a madre terra di nutrirti con la sua energia respira e lascia che l'energia della terra scorra in te attraverso i tuoi piedi le tue gambe senti la proprio dentro di te falla salire e lascia che raggiunga tutto il tuo corpo molto bene ora semplicemente apriti a ricevere l'energia della fonte che arriva a te come un raggio di luce dal cielo dall'alto e che comincia a penetrare nella tua testa dalla sommità proprio del capo ricevi questa energia e lascia che riempia tutto il tuo corpo chiedi a queste due energie di andare a risvegliare la tua scintilla divina che si trova al centro nel tuo del tuo cuore e lasciala espandere lasciala diventare più grande del tuo corpo e chiedi a queste due fonti energetiche quindi la fonte e la terra di inviare ancora più energia te senti che l'energia sale che aumenta 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 e ad ogni respiro che fai datti il permesso di sentire di percepire la tua energia la tua potenza la tua forza energetica e lascia che una doppia spirale di luce dorata ti avvolga e cominci a roteare attorno a te in senso orario potrebbe anche girarti la testa va tutto bene continuo a respirare profondamente e potresti sentire il tuo corpo vibrare o semplicemente un flusso di energia che lo attraversa ovviamente se non hai mai fatto questo tipo di lavoro ti avviso che l'energia quando arriva non sempre è un terremoto a volte molto delicata quindi è importante portare l'attenzione per poter imparare a percepirla fai ancora qualche bel respiro e puoi aprire i tuoi occhi bene questo è un esercizio molto 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 semplice che puoi fare tutti i giorni e che ti aiuta a centrarti a connetterti col luogo in cui vivi quindi questo pianeta e con la fonte stessa con te stesso anche perché comunque ti connetti alla tua scintilla divina questo esercizio ti è molto utile perché comunque ti consente di entrare nel presente di essere nel presente e anche di imparare a percepire la tua energia grazie